Far west eolico nelle terre del primitivo, le mastodontiche pale del vento pronte a bucare il cielo tra le campagne DOC e DOCG del versante orientale della provincia sarebbero oltre un centinaio non più soltanto 63 in agro di Manduria. Le richieste più d'una di installazione delle centrali eoliche sarebbero state già presentate in regione nei mesi scorsi. Si tratta in particolare di domande di verifica di assoggettabilità degli impianti. Nello specifico, oltre alle 63 pale eoliche da 100 metri d'altezza ciascuna in zona Castelli che ha scatenato una sommossa tra produttori e residenti di cui è stata avanzata la richiesta di via ci sarebbe anche la richiesta di un altro impianto per altre 21 pale in agro di Avetrana. In questo caso la società richiedente sarebbe la ponente Monte SRL. Ci sarebbe inoltre la richiesta di installazione anche di 24 torri del vento nelle campagne tra Torricella e Uggiano. Infine, stando ad indiscrezioni, un'ulteriore richiesta di 30 pale eoli che sarebbe stata presentata nella zona di Erchie. Tutte zone, queste circostanti, Manduria è la zona di produzione dei vini d'eccellenza. A dare conferma degli ulteriori impianti nella provincia di Taranto è lo stesso ente di via Anfiteatro. Ecco perché dall'assessorato all'ambiente presieduto da Giampiero Mancarelli è partita l'ennesima levata di scudi dopo quella in difesa delle campagne di Manduria contro i progetti delle centrali tra Avetrana e Maruggio. Una battaglia che l'assessorato e la provincia sono pronti a condurre senza sé e senza ma. In difesa del territorio, contro il business spregiudicato dell'eolico, si parla di affari complessivi da oltre 200 milioni di euro nelle zone di produzione d'eccellenza. Domani l'incontro in regione sul tema.